Si è rafforzato infatti il ruolo della Corte dei Conti ed è stato riconosciuto che è stato riconosciuto dalla stessa anche della Corte Costituzionale di garante, leggo ripetutamente e osservato dalla Corte Costituzionale, di garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica in riferimento a parametri costituzionali articoli 81, 119 e 120 di Costituzione e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.